una vita diciamo una vita che abitiamo qua stanno sistemando tutto le persone sono molto bravi gentili che stanno lavorando bene stanno facendo soprattutto il cappotto fuori che quando c'erano le piastrelle veniva dentro l'acqua siamo in un quartiere di zingonia la famosa frazione dei comuni di verdellino ciserano osio sotto e voltiere un quartiere dove abitano veramente tante famiglie quindi quasi un quartiere di casi popolari sarebbe auspicabile avere l'opportunità di poter procedere con questi lavori e dare qualità totale a questo quartiere due miei figli la moglie siamo qua da venti anni però siamo contenti che avete fatto uno buon lavoro saranno due anni anche di più io guardo sempre dal positivo mai allora al negativo allora io mi chiami mustafa e 23 anni sono qua sono qui del 62 qui parliamo di un quartiere che conta circa un 700 800 persone insomma quasi mille presenze molti minori perché dicevo prima che ci sono tante famiglie con bambini l'amministrazione comunale sta portando avanti anche dei progetti di riqualificazione dei parchi all'interno di questo quartiere come disegno che vediamo di là è veramente bello poi in fine vediamo quando finisce spero che si migliora ancora un'altra volta e ritorna il punto di prima ci sono i bambini tanti ragazzi che non c'hanno non c'hanno niente qua ecco vorrei che tornassi ancora come una volta noi abbiamo visto proprio l'inizio di questo cantiere qua lo vediamo esteticamente una gran cosa rispetto a quella che era zingonia alcuni anni sono 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 contento